In questo momento il rapporto con Apple si sta incanalando nella fase operativa. Loro hanno fatto due sopralluoghi, a questo punto occorre passare ad una fase progettuale, sia dal punto di vista della logistica, cioè di dove effettivamente andremo a strutturare questa academy, e poi sulla parte didattica, che è un po' più difficile. Là su quello ci sono degli scambi di informazioni, stiamo già immaginando uno scenario di corsi con coinvolgimenti anche delle altre università della Campania, non soltanto la Federico II. Sul piano di infrastruttura la cosa speriamo sia abbastanza definita, è probabile che entro fine mese ci sia un altro sopralluogo per passare ad una fase definitivamente esecutiva.